Ciao a tutti, io mi chiamo Sydney e benvenuti ancora una volta sulla rubrica russaliana appunti russi di un'italiana come sapete immediatamente dopo l'inizio della guerra o operazione speciale molte aziende hanno lasciato la Russia e una di queste è stata il McDonald's è stata una piccola grande tragedia per molte persone che lavoravano al McDonald's o il cui lavoro era connesso al McDonald's come per esempio i corrieri che adesso non li vedete ma normalmente girano in bicicletta per la città portando il cibo ora il McDonald's aveva chiuso e a lungo ci siamo chiesti se sarebbe tornato o no non sappiamo bene com'è successo e quali sono i meccanismi che ci sono dietro questa storia ma il McDonald's ha riaperto, però è un McDonald's non McDonald's non ha più l'insegna del McDonald's non sappiamo se avrà mai un'insegna si trova esattamente negli stessi edifici dove si trova il McDonald's e ha un nuovo nome e anche una nuova grafica si chiama Fkusna Itochka che in italiano si traduce buono e basta i russi hanno già cominciato a fare diversi giochi di parole per esempio Fkusna Itochka anziché dire Fkusna Itochka dicono Fkus Ačka che significa sapore di ano andiamo a vedere com'è che è chiaro con il chicken premier e il chicken loyal Allora abbiamo preso Io come al solito, io amo prendere qualcosa con il pollo mi piace tipo il chicken, non so come si chiama in Italia chicken royal forse qua si chiama chicken premier adesso non ricordo nemmeno se hanno cambiato il nome cioè se prima si chiamava chicken royal adesso si chiama chicken premier comunque non è importante, è una cosa con il pollo, vi faccio vedere. Il pacchetto d'asporto è assolutamente senza grafica, prima non era così, c'era sempre il logo del McDonald's, anche qui non c'è nessuna grafica, niente. Muto, è ammutolito il McDonald's, questo è succo d'arancia. Pazzoletti, patatine, cioè il logo che abbiamo visto sul menu di queste casse automatiche per qualche motivo non c'è ancora sulle confezioni, immagino che sia perché hanno aperto in fretta e furia e non hanno fatto in tempo a mettere la grafica dappertutto, perché immagino che anche questa cosa abbia dei costi e richieda del lavoro. C'è scritto semplicemente chicken premier o premier, come si legge, e dicono che i sapori siano un po' cambiati, ma il prodotto è proprio lo stesso, più o meno, cioè c'è il pomodoro, c'è la cotoletta, c'è l'insalata, salsa. Adesso vediamo che cosa hai ordinato tu. Questo è Anton, Anton che cosa hai preso? Il mio solito, questo è il succo d'arancia, questo è medio, anche questo è senza logo, niente, bianco. Il sapore non è cambiato. Cambia ogni tanto, perché questo è fatto dal succo concentrato, quindi se mettono più acqua sa di fiscio. Questo più o meno. Va bene, allora ho preso chicken nuggets, prima si chiamavano mcnuggets, adesso comunque solo, sì. Questa è la storia. Ah, ecco, eccolo qua. Il logo? Guarda qua. Ah, hanno cancellato il logo del Mac. Sì, sì. Quindi io l'ho visto su Telegram e non l'ho creduto. Adesso comunque, sì, abbiamo... L'ho comprovato, come si disse. Abbiamo le prove. Sì, abbiamo le prove. Questo qua c'era il logo di McDonald's, perché la salsa è la stessa, di Heidi Heinz. Va bene, adesso facciamo... Più o meno lo stesso. A dire la verità, non ero, non sono mai stato un fan dei mcnuggets, perché i nuggets sono, sono dappertutto, quindi ci sono dei posti dove sanno proprio bene. Questo comunque non è male. Proviamo. Ho spaventato. Oh, c'è un pezzo di bacon che se ne è scappato. Sì, è il prossimo. Sì, mi metto. Uno. Sì, mi metto. Sì, mi metto. Grazie. Grazie. Facciamo colpo, facciamo. Uno, due, tre. A me avevano detto che i prodotti erano diversi, ma ho l'impressione che c'erano esattamente i stessi prodotti di prima. Ah, e che diceva quel ragazzo dentro? Diceva che i prezzi sono aumentati dei prodotti, ma lo stipendio è rimasto normale. infatti questo combo, come si dice in italiano combo? Menù? Che prima tipo McChicken qualcosa, l'ho pagato 300 rubli e con il cambio corrente sono l'equivalente credo di 5 euro. Prima però lo pagavo di meno, se non sbaglio prima lo pagavo tipo sui 280 rubli. Potrei sbagliarmi, però un po' di meno. Come vedete questo è il nuovo logo, è un logo molto simile, cioè vabbè, in realtà è proprio lo stesso logo di una marca di cibo per animali portoghese. ricorda una M, però c'è la tocchica, c'è il punto, perché cus me tocchica significa buono e punto, ma punto significa in questo senso basta. Ecco la tocchica di cus me tocchica, però somiglia a una M, come la M di Mcdonald's, però non è un Mcdonald's. E comunque su questa nota io vi lascio, iscrivetevi al canale, accendete le notifiche e vi racconterò altri momenti della vita quotidiana in Russia. Ciao! , Ciao! Sono patatini, sono io.